Prosegue il progetto finalizzato a rendere il lungomare Pepi di Santa Maria di Castellabate il fronte del mare, un'area centrale efficiente, funzionale e ben attrezzata con la riqualificazione e l'ammodernamento degli arredi urbani di una delle passeggiate più suggestive del comune costiero. L'amministrazione comunale ha approvato con la delibera di giunta numero 10 2021 per le vie tecniche il progetto definitivo esecutivo dei lavori che interesseranno un altro punto strategico del lungomare nel tratto che va da Piazza Punta dell'Inferno e procede in direzione del lungomare De Simone. L'importo stimato per il restyling è di circa 130.000 euro. Gli interventi incideranno positivamente sull'aspetto dell'area che verrà quindi uniformata al percorso già avviato grazie all'uso degli stessi materiali della stessa architettura e arredo urbano già utilizzati per l'evoluzione generale del lungomare partito con gli interventi a lungomare Bracale e a Piazza Punta dell'Inferno. Inoltre il tratto verrà adeguato alle esigenze attuali con le nuove necessità date dalle attività commerciali presenti e grazie alla messa in sicurezza e al superamento delle barriere architettoniche per i disabili oltre alla creazione di nuove aree di aggregazione. L'assessore ai lavori pubblici, Costabile Nicoletti, dichiara in merito un intervento strategico che oltre a rimodernare tutto ciò che è stato usurato dal tempo e dal mare si andrà ad aggiungere come un altro fondamentale tassello del nostro progetto di creazione del fronte del mare, una vasta area urbanizzata e commerciale che si sta affermando come attrattore turistico di grande prestigio.